Torniamo a noi. Stavamo dicendo che questo è il metodo classico, in cui andiamo a creare tutto a mano. Ora, facciamo il metodo non classico, quindi creiamo un'altra funzione che è l'equivalente alla nostra createTableRaw e chiamiamola createTableRaw2, che quindi si comporterà nello stesso modo, deve fare la stessa cosa, deve creare un TD, eccetera, e facciamo il metodo non classico, che è anche, possiamo anche chiamarlo come abbiamo chiamato altre cose, il metodo da pigri, perché in 5 righe facciamo tutto quello che è scritto qui, ma in solo 5 righe, e per farlo, o 6, 6 perché c'è anche il tr da scrivere, e per farlo usiamo gli string literal. Vi ricordate cosa sono gli string literal da JavaScript? Questa è una stringa in JavaScript, no? Giusto? Sì? Sì. Questa? È una stringa? Questa? Sì. Questo è uno string literal, perché qui dentro voi potete scrivere cose tipo Così. Qual è il risultato di questo? Una volta che viene stampato a schermo? Da JavaScript? Annetto che non ha senso, ma qual è il risultato di questo? Stampa ciao è il nome dell'esame. Quindi fa una interpolazione di stringhe in cui questo è il contenuto nella variabile e viene messo in una stringa. Ora, usando gli string literal, ne potremmo fare così. Quindi, ritornare una stringa che corrisponde all'HTML che ci serve. Dove nel primo td andremo a scrivere... Cosa andremo a scrivere nel primo td? Che è la data? Prima di exam.date Dollaro Aperto e chiusa graffa Perché dobbiamo inserire nella stringa il codice JavaScript exam.date.format Esattamente come prima 2020... no, 2022 Quattro volte y, due volte m, due volte d Nella seconda andremo a scrivere Nella seconda andremo a scrivere Nella seconda, che è il nome dell'esame, andremo a scrivere No, prima di exam.name Dollaro Aperto e chiusa graffa exam.name Quindi andiamo a riempire i posti che ci serve riempire Nel terzo, che è ben detto essere i crediti Scriveremo exam.credits Poi exam.score E qui Button btndanger x e id uguale dollaro exam.code Questo è l'equivalente Dell'altra funzione che abbiamo fatto sotto Ora, qual è la differenza? Che nella prima funzione che abbiamo fatto sotto Noi abbiamo creato ogni singolo elemento a mano L'abbiamo aggiunto nel DOM Eccetera Qui invece creiamo un template HTML Andiamo a riempire nel template le informazioni che ci servono E a questo punto Dovremmo poi anche modificare Questa funzione di fill exam table Perché prepend Scriviamo così Classic way E prepend Ma prepend Aggiunge dei nodi Aggiunge degli elementi Dei nodi O degli elementi Questo Non è un nodo Questo non è un elemento Questa è una stringa Quindi non possiamo usare prepend Non possiamo usare append Cosa potremmo usare? Cosa dobbiamo aggiungere innanzitutto? Questo che cos'è? Non è un nodo Non è un elemento È un Che cos'è? Questa roba qua È Assomiglia HTML È una stringa che contiene Che alla fine Conterrà dell'HTML Perché Quando verrà fatto il retorno Di questa funzione Noi avremo TR TD 2022 02 01 Annalisi matematica 1 Eccetera 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 Quindi sarà Una stringa di HTML Quindi qui Non possiamo più fare Prepend O append Di nodo Ma dovremmo fare Exam table Punto Insert Qualcosa Non c'è Insert HTML C'è Insert adiacente HTML Ma il senso è lo stesso C'è C'è Inner HTML Che rimpiazza L'intero HTML Ma non è quello Che vogliamo fare Non vogliamo rimpiazzare L'HTML Dell'intera tabella Con una riga Vogliamo aggiungerlo Alla tabella Quindi Insert adiacente HTML E Dobbiamo dire Dove Vogliamo inserirlo L'equivalente Del prepend E after Begin E cosa Vogliamo aggiungere Che è il nostro Examel Quindi Uguale a prima Quindi Non possiamo più usare Prepend Append Eccetera Perché noi adesso Stiamo lavorando Con l'HTML Direttamente Quindi ripeto Non abbiamo Non stiamo più manipolando Il DOM Ma dando Aggiungere Nodi O elementi Al DOM Ma gli stiamo passando All'HTML E lui poi si creerà I nodi Gli elementi Corrispondenti Se proviamo A fare Refresh Di questa pagina Vedete Che Visivamente Non cambia niente Nonostante Abbiamo fatto Refresh Perché è esattamente Lo stesso Modo Di prima Per cui C'è lo stesso Problema Che analisi Matematica 1 Viene dopo Chimica Viene dopo Informatica Perché abbiamo Fatto lo stesso Insert After Begin E l'equivalente Del prepend Quindi comunque Viene sempre inserito Quindi prima di questo I due questi campi input Viene inserito Analisi matematica 1 Prima di analisi matematica 1 Viene inserito chimica Prima di chimica Viene inserita informatica Prima di informatica Vavrebbe inserito X Se ci fosse un quarto elemento In questo In questa In questa tabella Ok Quindi questi due modi Sono equivalenti Questo ripeto È il modo Diciamo così Classico In cui si manipola Il DOM Creando elementi Aggiungendo elementi Eccetera Quest'altro È un metodo Un pochino più Veloce Che è possibile farlo Grazie a questi template A queste string literal Quindi finché in javascript Non c'era Nei string literal Questo non era possibile Adesso ci sono E quindi Possiamo Utilizzarlo Ora Fatemi tornare Nella versione 1 Invece che nella versione 2 Quindi nella versione classica Quindi fatemi commentare questo Questo chiamiamolo String Literal Way Perché Il nostro Esercizio Ci diceva Come punto 2 Rimuovere un esame Implementa un meccanismo Di rimozione di un esame Dalla tabella Mostrata nella pagina Sempre in javascript Definisci un event listener In un post appropriato Nel codice Per ogni bottone Di rimozione Quindi per ogni X Rossa Da rimuovere E poi nota che Dopo aver ricaricato la pagina Tutti gli esami cancellati Ricompariranno Perché noi non andiamo a cancellarli Dalla Dall'array In memoria Ma solo dalla tabella Che visualizziamo Quindi questo È il comportamento atteso Quindi lo cancelliamo dal DOM Non dall'array Che c'è in memoria Allora Prima cosa che ci dice Definiamo un event listener In un post appropriato Nel codice Associato a ogni Bottone X Quindi questo avrà il suo Elemento di cancellazione Questo avrà il suo Questo avrà il suo Ora Andiamo a lavorare Nella versione classica Per comodità Dove andiamo a aggiungere Questi event listener Di rimozione della riga Quindi agganciamo Al bottone Il concetto che deve Ascoltare Per un click Su quel bottone In modo da poter Cancellare la riga Dopo Al massimo è sbagliato Non succede niente Allora Possiamo aggiungerlo qui No Perché non ha senso Aggiungerlo lì Questo se abbiamo appena creato il TR Possiamo aggiungerlo dopo il T-date No E quindi Dopo il bottone Perché prima di creare il bottone Non possiamo aggiungergli Un listener Per il bottone Quindi ci serve il bottone Per potergli aggiungere Un listener al bottone No? Quindi Prima del return Perché prima di finire la funzione Ovviamente Possiamo fare TDAction Punto Add event listener Se ricordate L'event listener Ha due parametri Uno è Fade metodica questa roba Uno è Senza spazio Uno è Il tipo Dell'evento Che vogliamo intercettare L'altro è l'evento Che possiamo chiamare E Possiamo chiamare l'evento Non importa E qual è L'evento Che vogliamo intercettare? Il click Su un bottone Quindi questo è un bottone Stiamo aggiungendo La capacità di click A un bottone Non è un link Non è un href Stiamo Imbrugliando in un certo senso Stiamo collegando a un bottone Un qualcosa che può essere clickabile Un bottone è clickabile Non ha un href Non ha una destinazione Stiamo aggiungendo un click E Cosa Dovemo fare adesso? Quindi Quando viene cliccato Viene eseguito Questo Questa funzione Quindi cosa facciamo In questa funzione? E non c'è un default Per click su un bottone Perché non è un link No? È solo Quindi in questo caso Si può scrivere Però si può anche evitare Che cosa fa questa classe? Si Noi possiamo anche proprio toglierlo Toglierlo però Quindi Tr.remove Tr.remove Toglie La riga Quindi noi diciamo Quando viene cliccato Togliamo Tr Che è la riga Che abbiamo appena creato Quindi questo riferimento Alla riga qui E in teoria basta Proviamo Quindi facciamo refresh Se cancelliamo informatica Informatica sparisce Se cancelliamo analisi matematica 1 Sparisce analisi matematica 1 Se cancelliamo chimica Sparisce tutto E se andiamo a vedere l'HTML Vediamo che in effetti Questa tabella Che adesso bisogna andare a trovare Questa tabella è in effetti Vuota C'è solo Il campo di aggiunta Che non stiamo utilizzando E dato che queste modifiche Sono solo Temporanee Perché abbiamo tolto L'elemento dal DOM Se facciamo refresh Il programma viene rieseguito E quindi tutto ricompare Finché non andiamo a cancellarne Una Ora Se noi per esempio Volessimo Sapere Che cosa Stiamo rimuovendo Potremmo fare E.target.id Console.log E.target.id Ci darebbe il target A cui è associato Quindi l'elemento sorgente A cui è stato premuto Il bottone E ci dà l'id Di quell'elemento sorgente Che nel nostro caso È il codice dell'esame Quindi va a recuperare L'oggetto Che è stato premuto E va a vedere La proprietà id Di quell'oggetto Quindi se noi Torniamo di qua Apriamo la console E cancelliamo Informatica Lui ci stamperà 14 BHD Perché Quello è il codice Di informatica Quindi siamo Se vogliamo avere anche Accesso alla proprietà Possiamo farlo in questo modo Attraverso Event.target Stessa cosa per ovviamente Gli altri due Esami Ognuno cancella Non solo la prima riga Visivamente Ma vedete che L'elemento riconosce La riga Su cui è stato cancellato Su cui è stato Premuto L'evento Poi Facendo refresh Il programma Viene ricaricato da zero La pagina HTML Viene ricaricata da zero Vuota Viene rieseguito il JavaScript Viene rieseguito il CSS E quindi Si ricrea tutto questo Perché il JavaScript Crea la lista degli esami La prende E riempie la tabella Quindi al refresh Si riesegue tutto Da capo Ecco questo Nel modo String literal Non è possibile farlo Perché L'event listener Dobbiamo avere per forza Un oggetto di tipo td Quindi dovremmo Se volessimo farlo Con l'altro modo Dovremmo prima Creare la riga E poi una volta Che abbiamo la riga Andare a prendere Il tr associato E andare A prendere il bottone All'interno del tr E fare la stessa operazione Finché si tratta Di creare Va bene Quando poi si tratta Di aggiungere Event listener Dobbiamo per forza Ritornare Alla modalità In cui aggiungiamo Un event listener Dopo la creazione Dell'oggetto corrispondente Ok? Domande fin qui? Allora qui abbiamo Trovato un elemento Aggiunto elementi Aggiunto elementi listener Cancellato un elemento Abbiamo fatto La maggior parte Delle cose Che si può fare Con la manipolazione Del DOM Ora Se non ci sono domande Poi questo Lo metto su GitHub Così avete L'esempio Comunque Sì Si dovreste prima Aggiungere questo Al DOM E una volta che è stato aggiunto Si può andare a recuperare Si esatto Passaggio in più Quindi prima crea la riga Poi aggiungo la riga E poi posso aggiungere Per ogni riga Il suo Andare a prendere Il button E andare a prendere La TR Corrispondente Al button Per aggiungergli la Quindi diventa Un pezzo di questo Bisogna farlo In un certo senso Quindi diventa un po' meno Un po' più lungo di nuovo Ma certo È possibile anche così Però prima bisogna aggiungerlo Perché se non lo si aggiunge Lui non può trovarlo Nel DOM Ok Invece qui Non c'è bisogno di trovarlo Nel DOM Perché qui è stato appena creato Quindi l'abbiamo già Come variabile a disposizione E però Per esempio Quello che diceva lui prima Questo bottone qua Potevamo aggiungerlo Come in HTML Per esempio Quindi Non è che È un modo oppure l'altro Invece scrivere queste quattro righe Potevamo scrivere Button uguale Stringa Minore button Eccetera Poi come In HTML Aggiungerlo al TD action Quindi mischiare i due approcci Cioè Potevamo fare una cosa TD action Punto In HTML Uguale Così Questa riga È l'equivalente Di queste Tre Quindi mischiare In un certo senso Due approcci In quel caso All'interno del TD Aggiungiamo il bottone Che ci serviva Ok Altre domande Ok Allora Lanciamo Flasco Quindi Apri il terminale E Allora Fatemi creare Il solito Virtual environment E Fatemelo attivare Bin Activate Fatemi installare Flask Flask Session Flask Login Questo è Lo stesso Blog Che avevamo Ma Con il login Che avete fatto Qualche settimana fa Quindi 127 Ok Che io sono ancora Loggato Ok E Quindi è Lo stesso Blog che avevamo Già prima Con la home Eccetera In cui sono state aggiunte Due cose Uno è Il login Con lo stesso meccanismo Di Flask login Che avevate Già visto Quindi qui Login C'è una mail Non c'è la registrazione C'è solo il login In questo esempio Che è la mia mail E una password Che è password E a quel punto Si abilita Il bottone per il nuovo post Che era quello che avevamo già prima E il bottone di logout Che è quello per uscire Dal login E poi Ho aggiunto Un'altra cosa Per oggi Questa parte qui Questo filter by Questo filter by All CSS HTML Questi sono Tre link A niente Nel senso che Se li cliccate Sono link A cancelletto Quindi a questa pagina Ma cancelletto E l'idea di questi link È che noi adesso In javascript Possiamo andare A Usare questi tre link Come filtri Per I post del blog Che abbiamo qui sotto Quindi Cliccando su CSS Cosa ci aspettiamo Che Cosa Cosa vorremmo che succedesse Ci faccia vedere Solo i post Col tag CSS In questo caso La vorremmo agganciare Al tag HTML Solo i post Il post Ce n'è uno solo Col tag HTML All Ce li faccia vedere tutti Questa è una cosa Che potremmo fare Sul server Potremmo avere Sul server Una cosa Che quando clicchiamo Rigenera All'intera pagina Ci faccia vedere Solo il post Ci torni Solo il post Con l'HTML Solo il post Con CSS O tutti i post Come adesso Però possiamo anche Gestire il lato Client Visto che è un'operazione Di sola visualizzazione Non è che abbiamo Operazioni particolari Da fare sul server Però potremmo anche Farla sul server Con la differenza Che quando Se noi clicchiamo CSS Ed è fatta sul server Cosa succede? Cosa succederebbe Visivamente? Si ricarica L'intera pagina Se invece noi Lo faremo con JavaScript Non ricaricheremo la pagina Semplicemente Toglieremo Nasconderemo In questo caso Conviene nascondere Invece che rimuovere Come diceva lui prima In questo caso In questo caso potremmo Nascondere Degli elementi Dalla pagina Invece di rimuoverli Perché poi dovremmo Riaggiungerli Quindi rimuoverli È un pochino più Complicato in questo momento Ok? Come è fatto questo? Questo Questo ha In app.py Niente Questo ha In In template In base A uno script Caricato con the fair Che è app.js Quindi lo stesso Uno script analogo A quello che stavamo facendo Prima per la tabella degli esami Che è nella cartella static Come è il CSS Quindi nella cartella static Trovate un file Che si chiama app.js Che è vuoto A parte lo use strict In questo momento Poi questo ha In index Ovviamente La sezione Filter by Che viene creata Dinamicamente Da server Per cui inserisce All E poi inserisce Per ogni tag Che esiste nel post Un suo tag In questo caso È una versione semplice Abbiamo due post Con due tag diversi Quindi inserisce Semplicemente Entrambi Così come sono E Ha Un E ha questa proprietà Data meno tag Questo attributo Data meno tag Che è un attributo Inventato No? È un attributo noto in HTML Data meno tag? Secondo voi esiste un data meno tag In HTML Anche secondo me Non esiste Però è valido Perché in HTML In realtà esiste Un attributo Data meno Quello che volete voi Data meno È un attributo Personalizzabile Che indica Che c'è un dato Un tipo di dato Che si può recuperare E Gli potete dare un nome Che volete voi Io l'ho chiamato Tag Però si può chiamare Data meno id Data meno nome Data meno Quello che volete L'importante è che inizi Con data meno Per avere attributi Custom È un modo standard In HTML Di avere attributi Personalizzati Data meno Qualcosa Ora dato che io volevo Avere un attributo Specifico Che mi dicesse Qual è il tipo Del tag Che sto selezionando Se all CSS HTML Senza andare a leggere Il testo Perché il testo Potrebbe anche essere cambiato Potrebbe anche essere Diverso Ma senza usare un id Perché Non è detto che nella pagina Ci sia un'unica cosa Che abbia di all All Termino un po' generico Per essere id Si può usare questo data meno Che è un attributo Personalizzabile E ripeto In questo caso L'ho chiamato Tag Ma potevate usare Un nome che volevate E questo In javascript Si può recuperare Tramite La proprietà Che si chiama Data set Quindi ogni tag HTML Ha una proprietà In javascript Che si chiama Data set Che prende tutto Quello che è Dopo il data meno Quindi Data set punto tag Ci darà All Se ne avessimo Un data meno nome Data set punto nome Ci darebbe il contenuto Di data meno nome Quindi questo data set Recupera la parte data meno In un certo senso Ricorda la parte data meno E quello che viene col punto È invece La parte personalizzata Che avete aggiunto voi Quindi abbiamo questi filtri Quello che vorremmo fare È che quando clicchiamo Su uno di questi filtri Qui Nascondiamo qualcosa O visualizziamo Tutto Quindi cliccando su All vediamo tutto Cliccando su CSS Vediamo solo il primo E cliccando su HTML Vediamo solo il secondo Ok Chiaro cosa vogliamo fare? Ok Come lo facciamo? Abbiamo un'ora Quasi Coraggio Come lo facciamo? Qual è la prima cosa Che dobbiamo fare? Anche adesso Come prima Allora ripetiamo Cosa vogliamo fare Qui in questa pagina? Cosa voglio fare qui? Voglio fare che quando una persona Completiamo la frase Sì Voglio filtrare in base A quello che è scritto qua Cosa devo fare? Qual è l'azione specifica che faccio? Metto il mouse E poi cosa ci faccio? Clicco su cosa? Su CSS Diciamo Quindi l'azione è Click Quindi l'azione click Ci fa venire in mente Che vogliamo un Event listener Un event listener Che vogliamo agganciare A che cosa? Al link A quale link? Ok E poi anche ad HTML? E poi anche a All Immagino Non lo stesso Però vogliamo aggiungere Un event listener Per ognuno Non vogliamo aggiungerne tre Anche perché Se noi avessimo un altro Blog E non è che andiamo a fare Copia e incolla Per la quarta volta No? Quindi Qui abbiamo tre link Abbiamo N link Vogliamo aggiungere Un event listener Per ogni link Giusto? Quindi la prima cosa Che dobbiamo fare È andare a recuperare I link Come andiamo a recuperare Il link Il dataset ci dirà Il nome del tag Ma prima Dobbiamo recuperare I link Dobbiamo recuperare Questa riga In un certo senso No? Questi tre link In questo momento Il contenitore È una section Se non ricordo male Sì Questo è Tanta roba Ma poi Ha una section Ha un H3 E poi ci sono Tre N A N tag A Quindi Vogliamo andare a recuperare Quei N tag A Quindi qui Cosa scriviamo? Vi aiuto Document Poi Get element Get element By tag Però se faccio Get element By tag Prendo E scrivo A Prendo tutti gli A Della pagina E quindi forse Cioè prendo tutti gli A Della pagina Quindi anche tutti questi Anche questo Anche questo Anche questo Anche questo Questi sono un po' troppi Ci vuole qualcosa di un pochino più Stringente Vorremmo davvero solo questi tre Quindi Fucarello Non get element By tag Ma In questo caso Ci serve davvero Fare come abbiamo fatto prima Cioè Query selector Query selector Ce ne da uno All Che roba cerchiamo? Che selettore Usiamo qui Non possiamo usare A Non possiamo usare solo A Perché se no prenderemo tutti i tag Saremmo nel caso di prima Quindi non va bene usare solo A Cosa ci mettiamo insieme ad A? Il contenitore Come facciamo a dirgli Questi A sono quelli nel contenitore? Sì Section maggiore A Quindi quello che Scriveremmo in CSS Se vogliamo verificare Possiamo fare Per esempio Console.log E vedere Il risultato di questo Questo viene eseguito Appena carichiamo la pagina E vedete che qui In effetti C'è una node list Di 3 A Che non sono Per niente leggibili Ma Sono tutti a cancelletto Data tag Quindi sono quelli giusti Apparentemente All Tag all Quindi sì Sono quelli giusti Ok? Bene L'abbiamo presi Quindi Via la console.log Sono tre Quindi Ora Per ognuno Dobbiamo aggiungere Un event listener Prenderebbe anche quelli Però in questo momento Abbiamo solo una section Potremmo dargli un ID A questa section A quel punto Andare a prendere Sì Esatto Però in questo momento Nella nostra struttura Abbiamo solo una section Quindi gli altri sono article Quindi Siamo Salvi Ne abbiamo tre Quattro Cinque Una alla volta Dobbiamo prenderne Quindi Sì Usiamo in altro modo Usiamo il for each Se non vi complico la vita troppo Che si scrive così Che è la stessa cosa Però invece di scrivere Di salvare questi In una lista E poi ciclare sulla lista Gli facciamo fare tutto A lui E il nostro Let Qualunque roba era È diventato link Quindi All'interno di questo Di questa funzione Usiamo link Come array Che contiene Un Un A Alla volta Ok Adesso Ne stiamo prendendo Una alla volta Quindi Cosa dobbiamo fare? Abbiamo il primo Cosa facciamo sul primo? Quindi Il primo link È il primo È il primo A All Cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto Dobbiamo aggiungere un Event listener Quindi Add Event listener Qual è l'evento Che vogliamo Intercettare? L'abbiamo detto prima Click di nuovo E quindi Poi qua ci serve Di nuovo un evento E avanti così Ok Cosa aggiungiamo? Cosa dobbiamo fare qui? Io qui Ho cliccato su All Oppure su CSS Oppure su HTML Nel nostro caso Oppure su qualunque Altra roba Venga dopo Sono arrivato in quel punto Io in E Punto target Ho L'elemento Che ho cliccato Ora Partendo da questa informazione Devo Nascondere Visualizzare Partiamo da nascondere Ho cliccato su CSS Devo nascondere Tutto quello che non è CSS Se sono nella pagina Normale Nella index Di default Che vedo tutto Quindi Sì posso mettere Event.prevent default Non è In questo caso Non è Sì in questo caso Il link ce l'abbiamo Che è un cancelletto Quindi non ha un grosso effetto Cioè si potrebbe anche omettere Funzionerebbe tutto Però Tag Tag Ok Quasi Però il primo pezzo è giusto Quindi Definiamo Il Chiamiamolo Filter Cioè Recuperiamo l'elemento Che ho cliccato Il dataset.tag Così l'abbiamo in una variabile E possiamo utilizzarlo per fare Eventuali controlli Quindi Questo è Event Event I.target Punto Dataset Punto Tag Dove I.target Ve lo ricordo È l'elemento Che è stato cliccato L'elemento HTML Che è stato cliccato Dataset Serve per prendere Gli attributi Di tipo data meno E tag Quello che viene dopo il meno Quindi qui Se clicco CSS Avrò In filter Il tag CSS Se clicco su HTML HTML Se clicco su All All Ok Poi Dicevi Ripeti un po' Se il tag Se il tag Dell'elemento È diverso Dall'elemento Che ho cliccato Devo nasconderlo Ci manca Non funziona con l'all Ma facciamo finta Che l'all non ci sia Perché sarà sempre diverso Dall'all Perché non c'è nessun tag Che si chiama all Però l'all è un caso particolare Facciamo finta Che non ci sia il caso all Facciamo finta Che sia solo CSS E HTML Ci manca un pezzo Quello è giusto Ci manca Una cosa da fare Prima dell'if Prendere? Prendere gli articoli Se no non possiamo nasconderli Come prendiamo gli articoli? Sì Oppure di nuovo con QuerySelectRoll È uguale Tagname QuerySelectRoll Usiamo qui di selectoroll così Però è uguale E qui article Tanto abbiamo solo quegli article Di nuovo Se avessimo altri article Dovremmo differenziarci in qualche modo E A questo punto possiamo fare for Article Article Of articles E adesso possiamo fare l'if Che diceva lui Se Filter È diverso Da Da Article Come andiamo a prendere Il tag da article? Il tag Il tag da article È dentro Article In una classe P In una classe Scusate In un elemento che si chiama P Con classe tag E In realtà Il tag è dentro Un È il testo dentro Un href In questo caso A noi serve questo Che è dentro un P Dentro l'article Dentro un A Quindi cosa scriviamo? Per recuperare questo Se non voglio mettere uno di là Posso mettere uno di là E fare getElementByD E il problema è che L'ID deve essere diverso Per ognuno Quindi comunque Dovrei Andare a cambiare Tutte le volte Quale è l'ID Perché per ogni post Dovrei avere un ID diverso Se non volessi cambiare niente E volessi usare Query Selector Cosa scriviamo qui? Come selettore? Siamo già dentro article No perché prenderemo anche questo P maggiore A Punto tag maggiore A In questo caso Usiamo la classe Per distinguere Quello che vogliamo fare Quindi punto tag Maggiore A Quindi la A contenuto Nel tag Che in questo caso È il P di prima Ok Se il filtro è diverso Da Dal tag Lo nascondo Io ho già fatto Una classe in CSS Che si chiama Hide Che fa display none Quindi potremmo Qui potremmo scrivere Vogliamo aggiungere la classe hide Che fa display none Ad article E quindi Cosa scriviamo? Article Punto Class list Punto Ad Hide Hide Che è la classe CSS Che abbiamo Poi? Basta così? Proviamo? No Non dobbiamo ritornare a niente In questo caso Finisce lì Abbiamo aggiunto la classe E fine Proviamo Allora Se clicchiamo su Chiudiamo questo Se clicchiamo su CSS Sparisce tutto Fatemi un attimo Togliere questo Prevent Default Giusto per Ok Quindi abbiamo un problema Ah certo Abbiamo un problema Questo cosa ci restituisce? Il problema è che questo Sarà sempre diverso Non sarà mai uguale Quindi lui Nosconde tutto Questo cosa ci restituisce? L'elemento A Noi non vogliamo L'elemento A Dove è finita l'index? Ci restituisce L'elemento A Tutto l'elemento A Noi vogliamo solo Questo pezzo qua Dell'elemento A Vogliamo il testo Dell'elemento A Non tutto l'elemento A Con la cara F E quant'altro Quindi quello che ci manca E qui E qui Punto text E Inner text Tipicamente in tutti gli altri In tutti gli elementi Ma per la A È text È il testo dell'A Allora se adesso proviamo Vedete che CSS In effetti Compare solo il CSS Se faccio il refresh HTML Compare solo l'HTML Se io premo CSS E poi premo HTML Mi sparisce il CSS Ma non mi riappare l'HTML Quindi abbiamo ancora qualcosa Da sistemare Quindi finché li trattiamo Singolarmente Funziona Però non abbiamo Non abbiamo ancora la all A posto E poi Se io adesso premo CSS Non funziona più niente Perché è tutto nascosto E quindi non Non va Allora cosa dobbiamo aggiungere qui Beh innanzitutto Cosa dobbiamo aggiungere Per Far funzionare La all Cosa fa la all La all Qualunque operazione abbiamo fatto La all cosa dovrebbe fare Quando clicco qui su all Cosa dovrebbe succedere Che tutto riappare Ok Quindi Qui potremmo scrivere E risolviamo il problema Di prima Else Article.classlist Punto remove Hide E poi magari Avrei dovuto Ok Quindi Se Sono nel CSS Diciamo Clicato su CSS E questo non è un tag CSS Lo nascondo Altrimenti Rimuovo La classe Hide Se non c'è Semplicemente Non fa niente Allora questo ci risolve Il problema Con Io premo CSS E mi rimane il CSS Premo HTML Mi compare HTML Perché Quello che prima Non aveva Quello che prima era nascosto Che era HTML Diventa visibile E quello che è CSS Diventa nascosto Quindi questo mi Risolve Il funzionamento Di questi filtri Agendo sempre Sulla lista intera Di articoli Che sono nascosti Quindi sono ancora Nella pagina HTML Semplicemente Non li vedo Quindi può fare Quest'operazione Perché sono nascosti L'avessimo rimossi Dovremmo Riaggiungerli Ma in questo caso Nasconderli È più facile Per ottenere Il risultato che vogliamo Ora dobbiamo Ripristinare L'all Dobbiamo far funzionare L'all Che in questo momento Non c'è un tag Che si chiama All Quindi lui nasconde tutto Giustamente Quindi dobbiamo fare Una sorta di eccezione Da qualche parte Dove Dove andiamo a aggiungere Un'eccezione Per la all Definisci inizio Riga 3 Riga 1 Riga Un altro 4 Fuori dal 4 Oppure Questo metodo Non sono sicuro che funzioni Ma mi sembra sicuramente Più complicato Nel necessario E se è uguale a all Cosa faccio? Rimuovere hide Però Quello che riciclato È che gli dico Qui scrivo un altro If Filter All E se è così Faccio Così Giusto? Altrimenti Faccio così Una roba del genere Ok Però non mi piace Che questa riga Sia duplicata due volte Perché in realtà lo è Quindi c'è un altro modo Che dovrebbe funzionare Meno Secondo me Che potrebbe essere Di usare questo if Che abbiamo Se filter È diverso da all E È diverso da Il tag Selettore Quindi quando è all Questa condizione Sarà falsa E quindi andremo sul remove E questo non importa Quando è all Allora in questo caso Se noi Facciamo refresh Andiamo su CSS Vediamo solo il CSS Andiamo su HTML Vediamo solo HTML Andiamo su all Vediamo di nuovo tutto E Via così Semplicemente aggiungendo E rimuovendo Una classe Ok E questo è un Modo di fare filtri Tutto sommato Semplice Perché abbiamo solo Aggiunto una classe E rimuovso una classe E un modo Alternativo Per fare Quello Poteva anche essere Article.style Punto Display Uguale None Che è esattamente Quello che fa La classe Hide Qual è il problema Di farlo in questo modo? Fin qui Funzionerebbe Fin qui Sarebbe Equivalente Sì Che qui Non potrei più fare Remove Eccetera Ma dovrei Rimpostare un display A Block Flex Chi lo sa Tipicamente Block Perché un article È block Ma se l'avessimo Cambiato Andremo a Resettare Il tipo Di block Perché Non esiste Un contrario Di Non esiste Un rimuovi Il none Esiste Un Imposta Il display A qualcos'altro Invece In questo caso Andiamo a Rimuovere Una classe E quindi Riprende Il display Che aveva Prima Quindi Questo Funzionerebbe Lo stesso Se fossimo Certi Di qual è Il display Type Di quel Specifico Article Che in questo caso È block Ma E comunque Sempre preferibile Quando bisogna Manipolare Il CSS Andare A aggiungere E togliere Classi Piuttosto Che andare A cambiare Proprietà Anche perché Andare A aggiungere Classi Se la ricordiamo Da punto di vista HTML Andare A aggiungere Classi A aggiungere Una classe Scrivere Article.style Aggiungere Stile In linea Quindi Aggiungere Uno style Uguale Aperte Virgolette Dentro L'HTML Che abbiamo Detto È meglio Evitare Sempre meglio Utilizzare Un CSS Esterno Quindi Così Continuiamo A usare Un CSS Esterno Aggiungendo Rimuovendo Classi Nell'altro Andiamo A aggiungere Uno stile In linea Direttamente Nell'elemento Possiamo Modificarlo Ok Domande Tutto chiaro Ok Allora Se è tutto Chiaro Venerdì In laboratorio Non venerdì Assolutamente Non venerdì Mercoledì In laboratorio Ci sarà Un Un laboratorio Su La manipolazione Del DOM All'interno Di flasca All'interno Del social Che state Costruendo Come dicevo Questa è L'ultima lezione Di concetti Nuovi 20 giorni Prima Della data D'esame Del primo appello Pubblicheremo Il testo Per il primo appello Quindi Entro il 3 Di gennaio Magari Un po' prima A gennaio Il lunedì Alle 4 L'unico lunedì Che avremo Alle 4 Faremo Un'ora Un'ora e mezza 45 minuti Vediamo In base al Bisogno Di domande E risposte Sull'esame Sul testo D'esame Quindi Saremo in aula E se avrete domande Potremo guardare Il tema D'esame Insieme Il 9 Praticamente Gennaio Potremo guardare Il testo D'esame Insieme Se avete domande Dubbi Qualcosa che non è chiaro Possiamo dedicare Un'oretta Per quello Ma questo è L'ultimo Argomento Che abbiamo affrontato Nel corso Non ci sono più Argomenti nuovi Mercoledì Ripeto Farete un laboratorio Su questo Il mercoledì A gennaio L'unico Mercoledì Direzione a gennaio Ci sarà Un altro Laboratorio Che sarà Standalone Sull'idea Di farvi vedere Farvi provare In laboratorio Con delle istruzioni Semplici A fare il deploy Di un sito Come quello Che avete fatto Da qualche parte In modo che non giri Solo su vostro computer Ma che sia Disponibile Seppur in maniera Temporanea Su Su internet O comunque Più facilmente Raggiungibile Rispetto al localhost Ok Quindi questo è L'obiettivo di quel laboratorio Per cui non c'è niente Da Non c'è molto Da raccontare Prima Se non Bisogna andare Su questa piattaforma Caricare il codice Sistemarlo Eventualmente E poi Vederne il risultato Finale Ok Detto questo Chi sarà ancora qui Mercoledì Vi vedrete Con Alberto In laboratorio E con me Ci vedremo poi A gennaio Quindi Buon Natale E buone festa a tutti E buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti